Avanza Bianchetti, dentro bellissima la giocata di Bernabieschi, regolare per Longo, può fare 6 e chiudere la partita sul punteggio temnistico e non sbaglia, 6-1, Longo Il Verona, ci prova ancora Martigno, trasse di Martigno, la conclusione, il gran gol, davvero un grandissimo gol di Longo al volo di sinistro Un po' al balon del Sergio García para Joan Verdú, Joan Verdú para Longo, va a marcar l'Español, va a marcar Longo, il remate ha sido desde il suelo un remate extraño con un po' E va lasciar colpevolmente spazio a Rodrigo, ancora una volta Rodrigo, baglia questa volta la misura del passaggio facile verso De Lofeu, sorprendente l'errore di Rodrigo, può ripartire l'Italia con Sansone A cercare l'inserimento di Longo, Longo all'interno dell'area di rigore, Longo, gran gol di Longo, accorcia le distanze d'Italia al dodicesimo Combinando muy bien en esa banda, Idaola y su Saleta, punto, estuvo, Saleta, es una jugada Il partito è importante farlo, Venga, il ballon accade, è un intero, a caso per Longo, può marcar l'Español, il Rosso? Il partito era a avnak, non poteva tutto, avrei l'avessvamo Lo avesscio che si intenta incomodare a Roda o a Vallonserro, ma oggi si un referente Vabbè, effettivamente recibe Cavaglione. Credo che la mano, gol! Gol! Poi prima parlavamo di Longo, antes aparece, per stabilire il primo gol del partito, suo primo taglio. ...contro la Lazio, in questa bellissima, del cargando di una vera, Fabio Barbetti, di dubbio, Longo, Longo sulla destra, scende entro l'area Livaia, Longo fa tutto da solo, Longo! Samuele Longo, 3 a 1 per l'Inter, azione personale, del bomber di Valborbiadene! Caritano, per l'interno del passaggio, per l'interno della difesa dell'Irana, Caritano vai in giro, per l'interno della destra, l'interno della destra, l'interno dell'aria, Longo, numero di Longo, Longo! Il pareggio dell'Inter, ha segnato Samuele Longo! Ed è un grandissimo gol, per il modo in cui, ma non lo trova, in realtà, c'è ancora, Bayer, seguo il puntino, questo è la porta, rosso, all'arca per Romano, che ha di fronte di sole, però una puntata, vuole il fondo per passare Romano, pallone, passo in mezzo, Longo, 3 a 3, tirato 108! I rigori, sempre più, a essere una realtà, Krissetig, per uno degli ultimi assaggi, della pensione, a spazio Krissetig, solo a tre quarti, vessa apre, per Romano, limite l'aria, Longo, incontinuando, incontinuando, al 122esimo, incredibile! Palla in profondità, il pallone, è toccato, all'indietro, attenzione a Longo, che arriva come un pacco, Longo, sento il portiere, ora questa arriva, Longo! 2 a 0, Inter, lo serve poi, attenzione a Romano, alza la testa, Longo! Insomma, l'allenatore intanto, la discesa, il gol, grande discesa di Longo, il gol del Genoa, dopo quattro minuti del primo tempo, di Qatari, seguito! A presto!